Bentornati con le notizie di Videonews. Ieri all'aeroporto militare Francesco Baracca celebrati i cento anni del ruolo delle armi dell'aeronautica militare, i particolari nel nostro servizio. Gli ufficiali del ruolo delle armi si incontrano a Roma per celebrare la costituzione di quello che alla nascita il 10 dicembre 1923 si chiamava Reggio Corpo degli Aeroporti e che aveva il compito di presiedere a tutti i servizi degli aeroporti assicurandone il regolare funzionamento. Si trattava di un corpo di supporto costituito pochi mesi dopo la nascita della reggia aeronautica per garantire lo svolgimento di tutte le attività legate al volo e che ben presto fu soppresso. Nel 1931 il corpo cederà il passo a ruolo servizi concepito per assolvere oltre all'impiego dei mezzi di volo anche altri compiti. Il primo gennaio 1998 il ruolo servizi cambia ancora e lascia il posto al ruolo delle armi subendo un'importante trasformazione. Gli ufficiali del ruolo saranno infatti sempre più impiegati in settori altamente specialistici. Il ruolo delle armi oggi è caratterizzato da due categorie operazioni e logistica e da nove specialità da quelle strettamente connesse con il volo e l'operatività come la difesa aerea e missilistica integrata, il traffico aereo, equipaggi di volo, incursori, informazione e sicurezza, forze di superficie fino ad altre indispensabili per il funzionamento della forza armata come la logistica e la gestione delle risorse umane fino a quelle legate al settore delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni alla cyber defense come la telematica. Una realtà quella degli ufficiali dell'aeronautica militare numericamente consistente. Un terzo degli ufficiali dell'aeronautica militare appartengono al ruolo delle armi. Circa la metà di quelli che la forza armata impiega nei teatri operativi internazionali e una consistente parte di quelli che lavorano in ambito interforze e interagenzia sono ufficiali di questo ruolo. L'evento celebrativo che si è svolto a Roma il 9 maggio alla presenza di circa 500 ufficiali del ruolo delle armi, di autorità e ospiti del mondo accademico industriale ha previsto anche una tavola rotonda in cui sono stati trattati temi riguardanti il cambiamento e le nuove tecnologie con particolare riferimento a come queste potranno influenzare l'impiego e le professionalità degli uomini e delle donne del ruolo delle armi. Proprio di questo abbiamo parlato nei giorni scorsi con il capo del ruolo e il generale di squadra aerea Sergio Antonio Scalese. Indubbiamente la tecnologia guida anche se vogliamo l'evoluzione degli uomini e viceversa sia un rapporto bionivoco per cui appunto gli avanzamenti tecnologici devono necessariamente ripercuotersi sul modo di funzionare di un'organizzazione complessa o meno aeronautica. Per quanto riguarda il ruolo naturalmente le varie specialità che nel tempo sono anche cambiate in parte non hanno potuto far altro che acquisire i vantaggi che la tecnologia dava in quella specifica specialità. Naturalmente le specialità che sono più a contatto con la tecnologia e soprattutto con le tecnologie moderne mi riferisco all'information technology in particolare con tutto il corollario di intelligenza artificiale, cyber security eccetera. La specialità che si occupa in particolare di questi aspetti è dovuta evolvere in maniera ancora più accelerata rispetto alle altre. Però questi nuovi avanzamenti, in particolare l'intelligenza artificiale e i cambiamenti che comporta non devono essere visti specifici di quella specialità. Pensiamo a come potrebbe essere modificata l'area della difesa aerea, come le macchine potrebbero in qualche modo sostituirsi a gran parte del lavoro dell'uomo per rendergli tutto sommato poi l'operatività più facile e più efficace. Oggi i circa 2000 ufficiali del ruolo delle armi posseggono un vasto ed eterogeneo panorama di professionalità che si sono evolute, consolidate nel tempo e che costituiscono una prerogativa logistica e operativa di imprescindibile importanza per la stessa funzionalità dell'aeronautica militare. Siamo un unico ruolo, dobbiamo sentirci uniti. Purtroppo l'eterogeneità delle specialità non ci consente di sentirci così, come dire, uno dipendente dall'altro o uno legato all'altro tranne in alcuni casi particolari. Si pensi alla logistica, per esempio, universale oppure alla stessa telematica che di nuovo è universale. Ecco, il messaggio che voglio dare è che siamo un unico ruolo, dobbiamo sentirci coesi, dobbiamo lavorare tutti insieme per l'aeronautica, non scordiamoci perché noi esistiamo perché esiste la Forza Armata e perché esiste il ruolo che è il core business della Forza Armata. Una forza operosa e silente di donne e uomini, perfettamente integrata nel tessuto organizzativo e operativo dell'arma azzurra, con un altissimo livello di conoscenze e competenze raggiunto in ogni singola specialità. Un impegno collettivo capace di trasformare nel corso degli anni ogni singola sfida in un'affascinante opportunità e di valorizzare un inestimabile patrimonio identitario, ispirando con coraggio ed abnegazione l'agire quotidiano al servizio dell'aeronautica militare, delle istituzioni e del paese. L'aeronautica militare è un'aeronautica che ovviamente fa del volo l'essenza stessa della sua vita, del suo nome, però sotto l'acqua, sotto l'iceberg c'è tutta una realtà viva che è fremente, che va veramente alla grande e io sono veramente soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questi 100 anni e devo ringraziare veramente il ruolo delle armi perché copre in maniera trasversale tutti i settori più importanti della Forza Armata. Solo grazie a loro noi riusciamo a essere presenti contemporaneamente in quasi tutto il mondo, stiamo appena rientrati, stiamo rientrando dall'Alaska, siamo in Polonia, siamo in Kuwait e questo non lo possiamo fare soltanto perché dietro c'è una realtà fatta dal personale del ruolo delle armi che ci consente di poter esprimere il nostro potere allo spaziale in tutti i posti. Sono contento di festeggiare con loro oggi questo centenario, questo loro compleanno perché devono guardare adesso e girare pagine e pensare alle nuove sfide che sono rappresentate dalla cyber security, dall'intelligenza artificiale e questo è un qualche cosa che loro devono portare dentro come obiettivo per i prossimi 100 anni. Durante l'evento celebrativo è stato presentato il nuovo libro del ruolo, un volume fotografico che ripercorrendo le tappe evolutive che hanno segnato il lungo cammino dal reggio corpo degli aeroporti ad oggi fornisce un'istantanea della spiccata professionalità raggiunta in ogni ambito dalle eterogenee specialità che lo compongono. Anche l'aeronautica militare agli internazionali d'Italia in programma a Roma fino al 19 maggio con le previsioni meteo assicurate dalla Forza Armata attraverso i bollettini e gli aggiornamenti in tempo reale per tutta la durata del torneo di tennis. Sul posto un radar meteorologico, una unità mobile e tre stazioni meteo-tattiche oltre ad un team di previsioni e specialisti del servizio meteorologico dell'aeronautica. A supportare l'iniziativa, tecnici del reparto Sistemi Informativi Automatizzati e quelli della 4ta Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo. Le infrastrutture saranno di ausilio ad un team di previsori e osservatori meteorologici del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica e di altri reparti meteo dislocati in tutto il paese. Il tutto per assicurare alla manifestazione sportiva il contributo necessario all'organizzazione delle varie sessioni di gara, l'avvio dei match o la ripresa a seguito delle eventuali interruzioni. Il team di specialisti del Servizio Meteorologico della Forza Armata ha sviluppato, proprio per questa occasione, uno strumento di previsione con una risoluzione spaziale di 500 metri a carattere sperimentale per fornire supporto alla direzione del torneo. L'aeronautica militare, come già ricordato nelle precedenti edizioni, nell'anno del centenario ha svolto a favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro una raccolta fondi nell'ambito del progetto benefico Un Dono dal Cielo per AIRC. Con il ricavato dell'iniziativa benefica sono stati acquistati due apparati, altamente tecnologici e di ultima generazione, destinati all'Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione AIRC a Milano. Un gesto generoso, nato dalla volontà di tutto il personale dell'aeronautica militare, a testimonianza della passione, dell'orgoglio e degli ideali che da sempre animano lo spirito di servizio ed il senso di appartenenza, espressione dei valori di altruismo e solidarietà. Da sempre l'impegno sociale fa parte del DNA della Forza Armata. La scelta di Fondazione AIRC come beneficiario del progetto solidale Un Dono dal Cielo per fare volare la ricerca oncologica è stata coerente con i valori che da un secolo ispirano l'aeronautica militare, costantemente impegnata nel promuovere e supportare iniziative volte ad aiutare i cittadini. Videonews è terminato. L'appuntamento è come sempre alla prossima settimana. Buon weekend dall'aeronautica militare.